Ecco come si presenta via luminaria a Giarre, strada d'alta densità veicolare fra le arterie più trafficate della città perché immette sull'autostrada. Buche e veri e propri fossi di diversi centimetri in certi casi costellano una carreggiata su cui le automobili fanno fatica a transitare senza rischi. Per segnalare queste voragini ed evitare che le vetture vi cadano dentro, i residenti hanno studiato in alcuni casi dei segnalatori fai-da-te, copertoni sparsi sulla strada e in qualche caso anche sul marciapiede dove permane un pericoloso cratere. In strada troviamo inoltre pezzi di cerchioni rotti. A restringere la carreggiata, poi oltre al doppio senso di circolazione, ci sono anche le automobili parcheggiate amboilati nei modi e nelle maniere più disparate. Lo spazio di transito si riduce al minimo e le auto, oltre all'ormai consolidato slalom, devono attendere che i pochi metri di strada percorribili siano anche sgombri. Da qui gli ingorghi e le file che sono solite in questo tratto di strada e che bloccano il bypass che conduce all'A18. Il maltempo dei giorni scorsi non ha fatto che aumentare un problema esistente da tempo in memore, criticità che riguarda anche altre strade principali del paese come via Ungaretti ed altre ridotte ormai a vero e proprio colabrodo, in cui si è soliti porre immediato rimedio riempendo le buche con la sabbia. Soluzione inadeguata a far fronte alle piogge torrenziali. Contattato telefonicamente, l'assessore lavori pubblici Giuseppe Durso ha riconosciuto la situazione di emergenza, spiegando che già si è iniziato ad intervenire ieri pomeriggio, aggiustando qualche buca. Ma dato il ponte festivo fatto dalle aziende del bitume, si potrà ricominciare a sanare la situazione solo a partire da lunedì. Provvederemo tempestivamente a riempire tutte le buche dando priorità alla statale. Molte di queste voraggini si sono formate laddove sono stati eseguiti all'accia e alla rete fognaria. Il suolo è stato martoriato da interventi troppo veloci e la copertura è avvenuta in maniera subitanea ed inefficace. Ma abbiamo difficoltà a controllare tutte queste situazioni. Nostra intenzione è, una volta approvato il bilancio, programmare degli interventi risolutivi, ossia asfaltare le arterie più colpite e transitate. Da lunedì si provvederà agli interventi temporanei nella prospettiva di trovare soluzioni a lungo termine, sperando, fra qualche mese, di poterci avvalere di maestranze interne al comune, operai che possano intervenire laddove necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria, in maniera tale da evitare l'iter dell'affidamento ad aziende esterne, anche quando si tratta della semplice bitumazione o dei rattoppi alle strade cittadine, ha concluso l'assessore D'Urso.